Salve a tutti ragazzi e benvenuti, anzi bentornati con questo nuovissimo video di Minecraft, Nico dove sei? Non ti vedo, Nico! Sto camminando per la strada del mondo, tutto bene tu? Siamo qua con tantissima gente per giocare a una random UHC e vincere ovviamente, non dico sei pronto a vincere? A singolo spero, no perché se sto in timbote è persa, ok meno male, ok, tantissimi siamo pronti ad entrare, forza andiamo tutti! Siamo con Lobby e aspettare che la partita inizi, per chi non lo so penso questa è una random UHC, ovvero ogni singolo blocco che noi romperemo ce ne darà uno completamente casuale, dobbiamo armarci e uccidere tutti quanti, e l'ultimo che rimane in vita vince, e Nico morirà per primo. Allora, chi trova l'enduto per primo deve dirlo, loco, va bene? Ma no, io se lo trovo sempre, ti giuro ultimamente lo trovo sempre e ti giuro che non te lo dico. Ah, devi dirlo almeno un indizio, se trovo qualcosa, ma te lo troverai gli altri sicuramente. Scusa, se mi impegno lo trovo io. Però io ho un piano geniale, siccome Nico tu sei scarso rispetto a tutti gli altri, lo sappiamo benissimo. Io sono scarso. Esatto, grazie a quello che mi hai dato uno stick, gentilissimo. Possiamo fare dei piccoli scherzi ai nostri amiconi, per darti una mano in più a vincere ovviamente. Ma no, ma in che senso? Che vuoi fare? Perché sei scarso e facciamo qualche scherzettino a tutti gli altri, no? Perché devi mettere in mezzo a me? Ah, oh, di che sei scarso te, no? No, tu sei scarso, all'interno facciamo tipi. Ma io sono il più forte del mondo. Ma che vuoi... Ah, Nico, hai già trovato qualcosa? Non puoi decidermi tanto? Un arco. Un arco, io ho trovato un pezzo di legno. Eh, bravo, io un arco. Come hai trovato l'arco? Boh, così. Micelio, spachi, arco. Ah, cioè, avevo anch'io così, praticamente faccio così. Micelio, spacco. All'arco anch'io, Nico. Ah, che bello, prendo la freccia. Grande, oddio, sei originale, loco, lochis. E tu no, tu no, tu ti chiami Nico. Cioè, Nico, tu ti si chiama Nico. Cioè, lo, loco, chi si chiama Loco? Ma in realtà mia madre e mio padre avevano pensato questo nome già da anni e anni fa, anni prima. Ecco, ha trovato l'andlut. Va bene, in questo caso, ha trovato l'andlut. Aspetta, se non funziona così... Ciao, Cali. Ha tp, Nico, perfetto. Ciao, Nico. Cos'è? Oddio. Pus. Oh no, secondo me... Non è che ci ha visto, effettamente proviamo a fare questo. Non vuoi che sia questo? È per forza qualcosa di questo tipo, guarda, per così. Vediamo se... È per forza questo, dai, è per forza. È per forza, ma è per forza. Ma non stiamo un po' citando troppo che ci siano tippati da questo? Cali, amico mio. Cali è amico mio? Non credo sia tuo amico. Siamo amici? Non è tuo amico. Siamo amici, vero? Non siamo amici? No, non mi sembra. Non vuole essere tuo amico, giustamente. Mi dico che sono scroccone, può darsi, vero? Come? No, 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 no. Questa cosa non l'accetto. Grande, Cali. Questa cosa non l'accetto. Cosa stai scrivendo? Eh, scusa, è che quando abbiamo buttato, non l'accetto, no, no, no. Eh, sui trovo le indelute, Cali è il primo che muore. Cali è il primo che muore, ma non per altro. Ho trovato loro, ho trovato loro, ho trovato loro, ho trovato loro, Nico. No, Cali. E come si fa? Nico, allora, convincilo a dirti l'indeluto, va bene? Ma non sono così, è il primo che muore. Ma no. Berries, berries per forza. 100% berries. Berries. Io posso capire cose, però non ne sono sicuro. No, se le staggers penso, io... È un po' se è così, eh. No, non sono le berries, non sono le berries, assolutamente. Niente berries. Berries, dove siete? Ma stai a menti. Dove sono le berries? Le berries si possono moltiplicare. Ma stai a menti. Si possono moltiplicare le berries? No. Ma non mi sottengo più berries, sono tutte insieme. No. Quanto ne hanno le berries? Vediamo com'è. Ma cosa devo fare con le berries? Berries, slime, corallo, tappeto. Che colore tappeto? Tappeto non metto nulla. Tappeto... Aspetta, riprovo un attimo. Corallo? Tappeto? Ok, adesso mi ha dato un libro. È molto scarso questo, ne dote, comunque. C'è, Bruce! Se c'è spugli. Bruce è morto. Ma come c'è morto? Ha quattro di vita. Sì, comunque sono le berries. Allora... E ma è un problema, eh. Nel caso spunassero tante berries casualmente per terra, sarebbe tutto casuale, giusto? Eh, dipende cosa vuol dire. È completamente casuale. E inizia a spunare adesso sotto i miei piedi delle berries, vero? No, sì, quello sicuramente sì. Ecco. Guarda cosa fare. Uh, bello questo loot. Possiamo che le berries... Ma in creativa, no. No, ne prendo, ne prendo, solo 16 ne prendo, solo 16, va bene? Mi sembra molto corretto. Eh, ma non è cittare. Ti sei messo il spectator. Da cosa vuoi? Io? Non è vero. No, ma che bugiardo. Guarda, c'è scritto. Nico, ti sei messo il spectator. C'è scritto. E ti sei messo il spectator? Ma non sono io. E che allora? È l'altro Nico? È il tuo... È finto. Non è vero, Nico. Nico, non ti siamo un po' esagerato questo. Che cosa? Va bene che avevo chiesto qualcosa, però... Dico, è geniale. Dico, andiamo al centro, lo facciamo, poi tipiamo tutti, va bene? Ok, va bene. Andiamo al centro, dov'è? Zero, zero. È veloce, non lo stai facendo, Nico. Sei troppo lento. Non l'hai ancora fatto. Non so, tu non stai facendo niente, rompi le scala. Eh, non so, fai queste cose. Tu, il big ladro, mica io. Non sono io il big ladro. Io ero il big, eh, mica il big ladro. Oh, perfetto. Attimo, adesso che mi allontano un secondo. Aspetta, fissa che Saibo ha visto qualcosa. Eh, sì, era dp, chiocciola A, loco lochis. Che è successo? Oh. Ecco a voi, land loot. Ma no, va così spudoratamente. Buona fortuna. Eh, noi siamo persone buone, noi siamo bravi, cioè gentili, vogliamo il bene per tutti. Eh, insomma, è un po' pittima come cosa. In realtà è perché ci avevano già sgamato e tu hai esagerato. Povero pingo, no. Revivalo, revivai. Slash, revivai. Tranquillo. Ma bravissimo, ma bravissimo. Eh, pingo, scusa, non può morire. Eh, pingo non può morire, cioè proprio pingo. Eh, no, pingo, no, davvero. Perché ha subito a fare la tattica, incredibile, questo già fu il diamante, perfetto. Oh, ho fatto qualcosa di errato, non so. Dico, perché hai tolto 7000 blocchi, me lo spieghi? Non l'ho fatto apposta. No, vabbè, lasciato. Un orso mi insegue. Cosa vuol dire un orso mi insegue? Non so, Saibo dice che un orso lo insegue. Non trovo nulla, Nico. Mi dai un po' di tappeti viola, già che ci sei? Va bene. Solo a me, però, non anche agli altri. Hai ben giocato troppo agli altri. Grazie. Ok. Mi sta togliendo l'inventario, Nico! Io non ti sto togliendo l'inventario. Perché io posso fare lo stesso comando tuo. Io non sto togliendo l'inventario a te. E prendiamoci il mio inventario. Allora, dico, ci sei rubato l'inventario a vicenda, lo sai? Possiamo smetterla? Zitto, tu mi hai tolto tutto l'inventario. Devo riprendere le mie cose. No. Devo riprendere le cose che erano mie di principio. Erano mie di diritto. Allora, smetti rubarmi le cose. No, non so, io adesso giuro. Ora sto... Basta! Sto farmando l'end loot. Eh, certo, l'end loot. Protection 1, ma voglio protection 4 io. Dammi protection 4, questo. Protection 4, ok. Come è morto Nico? No, povero Nico. Perché è morto Nico? Non so. È ucciso. Perché è morto in vita, no. Mi ero batte ancora le mele, ho sbaglio? Oh, io non ti sto facendo nulla, te lo giuro. Ma tu sei full completo, guarda, ti vedo, sei full completo. Io avevo 18 mele. Vai ferro, vedi che so, dai ferro. Avevo 18 mele, le ho perse tutte. Io ne ho 12, ma ancora ne ho 18. Appunto. Le ero batte, le perse, ti sono cadute. Hai caschetto? Lo sta trollando, diciamo che guardi, non ho favore. E che che mi tolla il fico, se non mi stai con i poteri, non ci sono altro, sai? Non lo so, guarda, qui c'è qualcosa che non fai, te lo dico. Guarda che io sono full completo, non è che sono full completo. Gambali. 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 Le stai a chiamare? Eh, c'è che... Non è che ti rispondono. Sì, io chiamo la... Quando Madre Natura chiama, lo corrisponde. Eccolo, Gambali! Che vuol dire questa frase? E se Madre Natura chiama, tu non rispondi, Nico. Non ho capito. Tu devi fare la cacca. Tu non fai la cacca? Io sì, se devo fare la cacca, faccio la cacca. Allora risponde a Madre Natura. La Madre Natura non è la cacca. È un modo di dire, Nico è una... Ecco adesso mi scappo alla cacca. È una cacca molto, dai. Voglio combattere anch'io! Sta combattendo Nico? Sì, ma... Mi hanno preso alle spalle. Hai uno scudo, Nico? Metti uno scudo. Non ce l'ho neanche per me lo scudo. Ah, stai morendo. Dai, ti lascio stare, perché... Raga! Ma che cosa vuol dire? Facciamo tutti contro Nico. Ma chi uccide Nico vince 30 biscotti. Chi uccide ho tanti semini? Ma come ti permetti, Nico? Eh, guarda, guarda, mi sta già inseguendo. Non voglio morire. Sono troppo giovane per morire. Sei tu che hai citato tutto. Non ho citato niente. Mi sta inseguendo. Aiuto, Nico. Salvami la vita. Ok, andai per... Oh, aiuto. Vabbè, no. Nico, sei tornato. Hai fatto la cacca? Non sono andato a fare la cacca. Sono sempre stato qua. Ah, certo. Con Franci Royeros che mi sta pushando. E adesso voglio pusharlo io. Non so dove sia finito. Sono quello qui sotto. Chi c'è? Chi c'è qui sotto? Ah, Cali! Mi aiuti a trovare Franci Royeros? Un attimo che mi stanno uccidendo. No, Giacomo. Giacomo, aiuti a me a parlare, Giacomo. Se io sto parlando con l'altra persona, tu mi diviata che ha dietro, Giacomo. Io sono team Giacomo. Vai, Giacomo. Ce la puoi fare. Perché io a unico l'ho risparmiata, me ne ero andato via. E invece lei vuole combattere. A quanto tempo lei vuole morire davvero? Nico, 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 Nico. Nico, Nico. Non facciamo queste cose, ok? Voglio che non fare anch'io. Ma, Nico ha uno sito di combattimento. Cali è morto, ma che peccato. Nico, c'è la barriera, Nico? Non te, Nico. Au, Nico. Allora, non dire Nico. La Flavia! Si chiama Nico? Come devo chiamarlo? Mi stai a confondere. La Flavia? Io non voglio uccidere. Non voglio uccidere i panni. Io voglio uccidere Franci Royeros. Dove è Franci Royeros? Perché lei prima stava uccidendo. Mi stava continuando a colpire. C'è qua Franci, c'è Franci, c'è Franci, c'è Franci. Usciti Franci, Nico. Dove? È qua, da me. È da me. È forte Franci. Lo picchio. Lo picchio. Ma tutti contro tutti ovviamente. Quando lei che... Ti picchio. Ti picchio. È tutto contro tutti. Tutti, quelle, tutto. Ma mi sta shiftando lui. Non voglio ucciderlo. Però deve morire. Cosa vuol dire lo colonico sì? Non ho capito. Io metto a piangere. Tu cosa ci fai qua? Io sto morendo. C'è uno che mi sta facendo con la testa. Non devi risparmiarlo. È un po' le segno di risparmiamento. Lo chiudo con lo sull'Island Block. Perfetto, l'ho chiuso. L'ho tappato. Qua chi sta combattendo? Non so capi niente. Non lo so. Io bisogno di guardare. Giacomo! Ancora questo? Giacomo, vieni qua. Giacomo. Non mi piace il nome Giacomo. In realtà, sì, ha un bel nome, però... Buono lo so. Vieni qua, Giacomo. Dove pensi ad andare? Giacomo, è scappato. Ho bisogno di rubare del loot. Ho bisogno del loot. Bravissimo, sette. Forta, sette, uccidi dico. Bravissimo. Chi è che mi ha colpito? Un loot. Giacomo! Ancora? Mi ha colpito lui. Giacomo che mi colpiga. Non sono io che... Ti vado contro, cioè, scusami. Sì, uccidilo. Dai non si vede nulla che c'è tutto il fuoco. Sto diventando... Divento pazzo io, questo fuoco. Aiuto, c'è un po' di gente intorno. Oh, ma Saiba è contro di... Ah, no, non è Saiba. È sette, mannaggia. Eh, non sai manco... Leggi i nomi, te. Aiba! Tu invece ce l'hai solo con Giacomo, povero Giacomo. Ma non è vero, io sono ucciso tutti io. Bravo, Nico! Bravo! No, come la sette? No, la sette dovevo uccidertè, non tu la sette. Sono fortissima! Il colo! Il colo! Devi morire, grazie. Sto morendo io, in realtà. In realtà mi sono salvato con un cuore, però non dirò a nessuno. E' molto fortunato di ottenere la tua vita. Colo, mi dispiace, ma... No, guarda che scappa! Colo! Ma questo è Francia, ho sbagliato. Scusa, Francia, non volevo. È Giacomo! Ancora sto Giacomo. Giacomo! Sette mi ha scritto, vendicami, Nico mi ha ucciso con mezzo cuore. No, uno. Solo rispondo. Diggli che ne avevo uno. Sarà fatto. No, no, diggli che ne avevo uno, però è importante. Io vendiccherò sette. Ho giocato solo di scudo. Allora, da dietro no. Chi è? Giacomo! Mi sembra che sempre è lui. No, da dietro no, ragazzi, non l'ho giocato il col... No! Ah, ci sono Franci! Sei fortissimo! Mamma mia! Porca miseria, sai come ho toccato giù da una collina? Tipo il re leone. Ha fatto come Mufasa. Mufasa! Hai una pronuncia strana quest'oggi tra Giacomo e Mufasa. Giacomo! Mufasa! Siamo nel deathmatch, ragazzi. Adesso Nico inizierà a spunare cosa a caso per il bigliettimento... Ma io vorrei fightare in realtà. Tu inizierà a spunare cosa a caso, l'ho deciso io. Cosa devo spunare, scusami? Dei Wither. No, dei Wither no, fai dei Revenger. E Ravager. E chi sta camperando là? Ecco, è Ravager. Beh, hai detto tu. Ah, c'è stato di Ravager, aiuto! Beh, hai detto tu. Ma c'è uno che... Ma c'è... Guarda dove è Giacomo! Guarda dove è Giacomo! È sul tetto! È sul tetto, Giacomo! Ender per tattica. Toccolokis, Giacomo. Giacomo! È Giacomo! Eh, mi spiace. Non si può andare sul tetto, Giacomo. È illegale andare sul tetto. Ma non è che scendi tu, no? Cioè, sali... Vabbè. Eh, non scendi, io salgo. Potevi tippare lui sotto. È sceso perché sta scappando. Però ha tre cuori. Non voglio più, ve lo vince Giacomo. Ma no, povero Giacomo. Saibo, mi salvi giù, mando Giacomo, te. Tu mi salvi giù, mando Giacomo. Cioè, chi mette accadito? Era Vanger! Oh, ti sei chiuso dentro! Mi dispiace, Saibo, ma hai fatto una stupidata, ti sei chiuso. Sì? Dove è Giacomo? Non dimmi che è morto Giacomo. Dove è Giacomo? Non dimmi che Giacomo è morto. No, e si è nascosto. Ok, meno male. L'ho aiutato a nascondersi. Dove è? Aspetta che mi sta scrivendo il primo fatto, gli rispondo. Il colo, cosa stai facendo? Il colo? Vuoi combattere il colo? Andi, questo! Ah, fa malissimo il colo! Ho detto a Giacomo in privato di nascondersi che lo vuoi uccidere. Ma non è vero, ma non è vero. No, stiamo parlando in privato, io e Giacomo. Ma perché devi dire bugginico? Ci stiamo parlando in privato, io sto dicendo di nascondersi. Ok, va bene. Vedi, loco è morto. Aia! Cosa? Cosa? Giacomo è morto. Ma come si permette? Sì! Ho ucciso! Ci ho fatto a Nico! Stiamo arrivando a 25. Io e Giacomo ci siamo, abbiamo fatto un'alleanza. Come un'alleanza? Nel frattempo che tu combattevi abbiamo fatto un piano diabolico. In che senso? In cosa consiste? E non l'ho fatto scappare su un altro mondo, si trova nel nether. Nel nether. Si trova nel nether. Nico! Hai un cuore! Nico sei morto! Nico sei praticamente morto! La tua vita è finita! Ah, vivi un'altra testa? No. Come hai fatto a recuperare tutta questa vita allora? È una mela. Una mela è messa un po' troppo esagerato per una mela. Hai un cuore! Sì! 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 Ho ucciso Nico a 35. Ho ucciso Nico a 35. Mannaggia! Dammi la tua testa! La tua testa, io voglio la tua testa! Ah, la testa di Nico! Dai, loco! Muoviti! Ho morto. Ho mangiato la tua testa. Così è morto? Oh! Bravo! Oh! GG! Bravo, Pietro! L'hai ucciso con i comandi! Loco, scusa, hai citato. Infame! Non si sa la vittoria a chi citta. Ma chi ha citato? Chi ha citato? Loco. Hai citato tutto il video, quindi la vittoria è giusto che la prenda Pietro. Spero che questo video ti sia piaciuto. E ho fatto... Ho fatto 7 kill. E Nico mi ha ucciso con... Ciao a tutti!